Tre di qua e tre di là i sei reduci candidati a sindaco di Civitavecchia che si fronteggeranno nelle elezioni in programma l'8 e il 9 giugno prossimi hanno una loro posizione sulla scheda elettorale. Ieri mattina nei locali dell'ufficio elettorale presso l'anagrafe di Piazzale Santarelli si è svolto il tradizionale sorteggio delle posizioni per i sei contendenti alla carica di primo cittadino e le liste a loro collegati. Nella scheda che tra poco meno di un mese sarà consegnata dagli scrutatori assieme a quella per il rinnovo del Parlamento europeo gli elettori Civitavecchiesi troveranno in alta sinistra il candidato sindaco della destra Massimiliano Grasso sostenuto da Fratelli d'Italia dalla lista Grasso Sindaco, dalla Lega, da Civitavecchia 2030 e dalla Svolta. Al secondo posto a sinistra i votanti troveranno Marco Piendibene sostenuto da PD, Unione Civica Piendibene e Sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra mentre in basso sempre sul lato sinistro della scheda ci sarà Vittorio Petrelli sostenuto dalla lista Il Buon Governo. Sul lato destro della scheda in alto gli elettori troveranno invece il candidato sindaco Paolo Poletti sostenuto dalla lista Poletti Sindaco, da Noi Moderati, da Forza Italia e da Uniti per Civitavecchia. Al centro del lato destro del foglio elettorale ci sarà invece Roberta Galletta appoggiata dalla lista Galletta Sindaco mentre in basso a destra chiuderà il lotto dei candidati alla massima carica cittadina il pentastellato Vincenzo Dantò sostenuto dal Movimento 5 Stelle, da Civitavecchia Popolare e dalla lista Dantò. Nella scheda, come già anticipato, non sarà presente il candidato sindaco di risorgimento socialista Christian Bufi, che non è stato ammesso perché la documentazione necessaria per la partecipazione alla consultazione elettorale è stata presentata in ritardo rispetto al termine massimo consentito.